Ben tornati raga e benvenuti perchè è nuovo nel canale ragazzi visto che il video per fare rp diciamo xp su modern warfare è piaciuto un sacco e io mi sto divertendo un sacco giocare a questo gioco perchè non portarvi qualche build qualche settaggio di qualche arma man mano ovviamente raga che sblocco tutto quanto perchè come ben sapete questo gioco per fare un'arma devi sbloccarne 65 quindi iniziamo con i componenti del vel 46 raga volata singward mkv raga poi passiamo all'impugnatura fase 3 come sottocanna a questo punto metteremo il caricatore da 50 colpi raga io mi trovo bene dopodichè potete mettere l'ottica io raga con il merini originale non riesco a giocare su certe armi quindi mi sono andato a mettere l'ottica la calibrazione secondo me è una cosa un po' personale quindi vi consiglio di andare a gestire un pochettino da soli e una volta che avete livellato l'arma al massimo potete farla raga io spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like se è stato d'aiuto se vi piace questo contenuto e sbada bam alla prossima ciao